Secondo me una delle cose principali è anche la necessità che il medico ha e stabilisca un'empatia con il paziente. Cioè è fondamentale che ci sia un contatto psicologico forte fra il paziente e il paziente e il medico. Siamo nello studio del professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica 2021, per consegnare il premio internazionale medicina interna FADOI 2022. Leggo la motivazione, la targa, la pergamena che consegniamo al professor, al professor Giorgio Parisi, per l'enorme contributo nel promuovere la ricerca scientifica nel campo dei sistemi complessi che riflette la complessità della medicina interna e del paziente con multimorbidità. da parte degli internisti italiani con ammirazione e apprezzamento per la sua ricerca fondamentale nell'auspicio di una collaborazione scientifica comune. Ecco, professore, questo... Sono onoratissimo di questo premio. Infatti la medicina... Una delle cose che ogni tanto mi piangono di non aver fatto il medico. Ah, ecco. Perché la medicina mi ha sempre... Appassionato. Mi ha appassionato moltissimo, ma non quando ero studente, col tempo. E questo è un astrolabio astrologico antico. E' bello. Ed è un po' per noi un simbolo del medico che non perde mai la strada. E quindi con questo la trova sempre, immagino che per lei sia un simbolo altrettanto importante. No, infatti l'astrolabio è bellissimo. Poi effettivamente queste cose di epoca antiche sono estremamente belle. Sono gratissime. Beh, siamo a nome grati e onorati che abbia accettato questo premio. E' tutta l'associazione di medici interni. Questo è la perghamina. Grazie. Grazie, professore. Grazie. Siamo disinfettati la mano. Grazie, grazie mille. Grazie di nuovo, allora. Grazie.